A Montano, ad 80 anni di carcere, le richieste di condanna che il PM Francesco Ponzetta ha formulato al Tribunale per gli otto imputati, accusati a vario titolo di aver abusato sessualmente di una ragazzina di soli 13 anni a Melito Portosalvo, comune del versante grecanico della provincia regina. Il branco avrebbe stuprato per due anni la giovane, costringendola ad un inferno fatto di violenza e ricatto. E proprio ricatto si chiama l'indagine condotta dai carabinieri e per cui l'accusa ha invocato condanne che oscillano dai 16 anni e 6 mesi ai 3 anni e 2 mesi di reclusione. La pena più pesante è stata richiesta per Davide Schimizi, il fidanzatino dell'epoca della giovane. Stando all'inchiesta, Schimizi avrebbe costretto la ragazzina a subire gli abusi dal gruppo, mentre di 15 anni la condanna è invocata per Giovanni Iamonte, il 32enne figlio del boss Remingo ed è proprio a causa della sua appartenenza ad una delle famiglie mafiose più influenti di Melito che la vicenda è stata intrisa da un clima omertoso e dalla paura. Sarà una fonte confidenziale a raccontare agli investigatori quanto stava avvenendo. Le indagini della procura sono scattate subito e gli arresti eseguiti poco dopo. Adesso la parola passerà ai difensori, la sentenza del collegio è attesa a ridosso del Natale e per la giovane il dono migliore non potrebbe essere che la fine di un incubo. Angela Panzera per la CINUS24 Grazie